Realtà istituzionali e produttive oggi si incontrano per parlare del futuro, quali sono le vostre proposte? Innanzitutto il mio intervento cercherà di illustrare quello che stiamo già facendo come gruppo Philips nel mondo e in Italia, come approntiamo la modalità della circular economy nel nostro business e come il fatto di essere premiati nell'avere un approccio green debba diventare una modalità per generare business ma anche una spinta dal regolatore per creare questo ecosistema tra imprese, istituzioni e consumatori, utilizzatori dei prodotti e dei servizi che porti avanti l'approccio della green economy. Tornando al tema della circular economy, l'incentivazione delle modalità del pay per use che servono a rendere effettivamente implementabile l'approccio della circular economy e quindi superare il concetto di produrre prodotti, vendere prodotti ma sviluppare prodotti e vendere i servizi che sono legati a questi prodotti mantenendo l'ownership nelle aziende che quindi possono pensare al life cycle, al ciclo completo del prodotto in maniera completamente nuova.